Per quanto riguarda invece il discorso dell'igiene ambientale, il nostro obiettivo è ridurre già nell'anno del 2014 di circa il 12% la cosiddetta Tari, perché non applicheremo il 30% dei servizi indivisibili che vale circa il 10% e poi abbiamo vinto un progetto regionale sulla raccolta differenziata a 300 mila Euro che incidono per circa il 2,5%, questo nell'immediato. A breve e medio termine è l'attivazione di Vedelago che secondo noi porterà una riduzione complessiva del 40%. Grazie per la visione!